E' fortuna, bene, bene sono fuori, caffè! Che è sta fuori? Questa è la cazza di due ore! E' già dovuto! Dai! E vabbè, c'è la finna, non c'è no pagate, c'è no giù maggiore Vittorio. Chiedi staziano, aspetta, aspetta, non c'è una fatina. Ecco, non c'è no delle signore, non siete di una tana, non c'è no, 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 non c'è no. Sì, c'è, chiedete uno giù maggiore Vittorio. Senatore il signore, vi faccio un'arte, la bella, la bella del signore. La bella, c'è tu vuoi? E' stato tanto lo pangliarlo, come madonna. E madonna? Oh boy! Aspetta, uno giù maggiore Vittorio, che non c'è una figura di una cena gelata. E poi c'è tu vuoi una figura, ha fatto una figura, come la finestra, c'è tu vuoi, c'è tu vuoi, c'è tu vuoi. Non c'è il signore. Vi faccio anche, non posso andare. Aspetta, non c'è, 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 non c'è. Che vedi. Però, te c'è già, se non c'è l'italia l'aise, l'aise, l'aise la gelata. L'aise c'è tu vuoi, come le stelle che tuoi, togliendo delle cielle. Le stelle. Ah, non c'è quello che è. Tu? Ah, tu, tu! Ah! Voi, non c'è una parola, non c'è una parola. E' saluto il Gino di Nord. Oh, il seminario. Ti dobbiamo. Ti dobbiamo. E' bello, eh? E' il giorno fa a te. Oh, siete ritori alla tutte. Venute la signore e le tutte genuinali? Le tutte genuine. Genuine tutte. Tutte le tutte. Tutte le tutte. Vieni. Vieni. Oh, prego. Ora, ti hai messo il tuo cuore. Aspetta, signore. Vieni, vittoria. Vieni, vieni. Il signore. De Nomma. De Nomma. Buongiorno. E' sto dobbiamo. Rossella. Vabbè. Sì. Allora, devi cercare la buonanotte, la buonanotte. E' sto dobbiamo. E' sto dobbiamo vedere la canna. Vittoria. Vittoria. Buongiorno. E' sto dobbiamo presentare il Papa Romano Giuseppe Valuto. Buongiorno. Buongiorno, signore. Signore Giuseppe. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno. E' Rossella. Rossella, vieni qua. E' sorpresa. e' sorpresa. E' un'amica. E' un'amica. A Giuseppe Valuti. Giuseppe Dovian Rossella. Aspetta. Sì, non c'è l'accavato. Oh no! Parla! Sì, ora... Ma signore, non c'è l'attività notte. Se non avrebbe finito già lì, non c'è l'attività di maliaggia. Ma non c'è lì, ma non c'è lì. E' un'attività notte che non c'è lì. E' un'attività notte che non c'è lì. Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Un, due... Due! Una, due... Una, una... Sì, non c'è lì, non c'è lì. È bene, è bene. È bene, è bene. Seconda lì, mezzo e mezzo. Signore, non c'è lì, E' tipo Giuseppe Villani, Venute a dire il farm, Il farm d'un oggetto a Sanagadino a Cipaglianovi. Guarda ora vedete che i wife D'un oggetto le streni, Strongi vigilati dei wife Si aprozano in autore, Why? D'un oggetto le wife estrenne, E poi non c'è la gara d'un cane Di delle persone di agente, Inoltre, da dei pc. Gidiamo, Gidiamo! Se vi ce l'ho dopo, non ce l'ho fa niente. Come are us drop dead? Non ce l'hai da, di wife. Non ce l'hai da, di wife. Non ce l'hai da. Che va tu? Non ce l'hai da girare. Il strength. Signore. Che faccio da noi? Cala dentro del strength. Eh? Eh? Oh? Eh? Non ce l'hai da girare. 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 Oh, sì. Non ce l'hai da girare. Non ce l'hai da girare. Non ce l'hai da girare? Che? Che parute di g لزورة. Oh! Sì, signore. Eh? Ah, vanno a cimitarci. E' proposta. E' proposta. Signore. Rosselli, Rosselli, per un'ottacchino che aveva i d'anni. Ma ero tuoi anni, chiede di genero e amore, e romanzi. E non toccato i digi, o geni vedono i giornali, e non alzine vedono i poetti, sa funzionare. Salute e farmi, sono a gibella, tu la vietieni, Rosselli, e Giuseppe, i mariaggi. Ah! Giuseppe, la tua tua moglie è presente, e la tua contatta, sia più buona. La tua contatta, la farm, le biciclette, tutte, aspettate. Oh, ragazza. Salute e la signora. Se vuoi avere un'ottacchino di mariaggi, di un servizio di cattone, E' un uccello Giuseppe, guardate, vengono mette loro di Farm, di Rosselle, di Lire, all Rosselle, vengono uccello di bicicletta Rosselle. Buon ricordo? Stuto o no? E' un uccello di lina, di toppe lina. Faccio una serie di gine, vai lì, vengono voglio dare. Farm, di Lire, di bicicletta. Aspetta, non cercav'i noti, ma vengono pagina, vengono pagina. Signore, mettiamo dietro le tablette. Ah ! Vengono la cavoca. Sì, vengono gatti. Non c'è la cazza, le vengono. Vengono pagina. Vengono pagina. Vengono pagina. Signore. Come. L'uccello di alcuni uccello di bicicletta, vengono i libri. Vengono pagina gialla di Rosselle, Giuseppe, i mariaggi. Parola! 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 Non so, stai sittando il nostro Cipone! L'esitando! E' la sua forma! E' il Dio! La sua volta ce n'è gatti! Ah! 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 Prendi qua! Ero solo un ruolo! Aspetta, cari unità! Grazie! Aspetta, signore, di un giorno metterò il mio arrivo del bicicletta? E' un mariaggio? Parola! 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 Grazie.